Era diventato uno dei punti più pericolosi del quartiere di Fenile, quello dell'incrocio tra strada provinciale 45 e via del Mulino, teatro di incidenti, anche mortali, dovuti sia all'alta velocità che alla scarsa visibilità. Dopo le numerose istanze dei residenti, oggi quel tratto è diventato più sicuro grazie alla realizzazione, in tempi record, di una nuova rotatoria. L'opera è stata realizzata dalle comune di Fano insieme alla provincia di Pesaro e Urbino per un costo complessivo di 250 mila euro, 137 mila dal comune e 87 mila dalla provincia che si è occupata della progettazione, dell'appalto, direzione dei lavori oltre ai vari aspetti tecnici amministrativi. Sabato mattina la benedizione del parroco Don Giuseppe Tintori e poi il taglio del nastro. Un'opera che è stata veramente realizzata alla velocità della luce, un'opera strategica per mettere in sicurezza questo quartiere, sia all'ingresso di questo quartiere per creare una connessione anche tra pista ciclabile che abbiamo realizzato, anche illuminato, con una pista ciclabile che poi continua in prossimità di quella che è la zona del distributore verso il centro commerciale e nello stesso tempo una rotatoria che anche nelle ore notturne potrà essere sicura grazie ai nuovi otto punti luci che sono stati installati. È una rotatoria compatta, ricordiamo, di 31 metri di diametro, una rotatoria che ci ha permesso anche contemporaneamente di fare lavori su tutto quello che è l'impianto fognario sottostante e quindi di risolvere anche un problema di allagamenti e nello stesso tempo è una rotatoria che oggi dà una risposta assolutamente con certezza di una riduzione di velocità e quindi di messa in sicurezza. Questo era un tratto molto molto pericoloso dove potevi mettere tutta la segnaletica che volevi, mettere dei rilevatori di velocità però la gente purtroppo passava qui ad altissima velocità, direi estremamente pericoloso. Con questa rotatoria dove c'è stata una stretta collaborazione, il merito va anche al comune di Fano, abbiamo con l'ingegner Primavera e con l'architetto Gili siamo riusciti a trovare dei finanziamenti, dei soldi e abbiamo fatto questo intervento che mette in sicurezza, come dicevo, un tratto estremamente pericoloso. Un altro intervento ed impegno mantenuto per i cittadini di questo quartiere, così ai microfoni, il sindaco di Fano Massimo Seri. Ricordo la prima assemblea da sindaco che ho fatto qui a Fenile, le richieste erano appunto la messa, la sistemazione di tante strade interne a cominciare dalla piazza di Fenile, la realizzazione della ciclabile, la sua illuminazione e la rotatoria. Oggi possiamo dire a distanza di anni che tutte quelle richieste hanno trovato una risposta, la ciclabile è realizzata, la sua illuminazione è realizzata, la piazzetta e tante strade del quartiere sono state asfaltate e oggi è stata ultimata anche la nuova rotatoria che mette in sicurezza. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto, le risposte che arrivano, ma soprattutto è l'attenzione che c'è in tutti i quartieri della città.